Buongiorno a tutti, nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24. E' sorta una nuova polemica relativa allo stanziamento dei fondi per la strada statale 107. Domani è prevista una riunione del Cipe. Le dichiarazioni incrociate hanno generato l'ennesima polemica fra il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, e il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio. Questa volta al centro della vicenda, i fondi per il recupero del centro storico di Cosenza. Ma c'è anche un'altra questione della quale si è parlato tanto nelle ultime ore. Ed anche qui la polemica è stata innescata. La riunione del Cipe, prevista per la settimana scorsa, e nel corso della quale era in programma di stanziare i fondi per la 106, è stata rimandata mercoledì 28. Ma in tal senso, da parte di Oliverio, sono arrivate rassicurazioni. Saranno anche in questo Cipe. Sono lì un miliardo e 350 milioni di euro che abbiamo portato a buon fine. Abbiamo chiuso una telenovela che è durata 11 anni. L'abbiamo chiusa con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si è tenuto la settimana scorsa, che alla unanimità ha approvato il nuovo progetto, con il parere positivo del Ministero dei Beni Culturali e di quello dell'ambiente che si erano prima opposti. I carabinieri di Limbadi, insieme a quelli del nucleo cinofili di Vibo Valenzi, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 23 anni per detenzione illegale di armi. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato una pistola con matricola a brasa, completa di due caricatori e 15 cartucce compatibili. Un fucile calibro 12, comprensivo 17 cartucce, nonché quasi 9 grammi di marijuana. Cambiamo argomento in Contrada, Marotta, di Rizziconi. I cittadini della zona da anni vivono continui disagi a causa delle strade dissestate con delle buche che sono diventate ormai delle vere e proprie voragini per noi. Graziano Tomarchio. Nel comune di Rizziconi, in località Drosi di Rizziconi, questa è una strada che porta a un'altra frazione di Rizziconi, che è Contrada, Marotta. Su segnalazione dei cittadini hanno chiesto il nostro intervento con le nostre telecamere. È una strada dissestata, una strada che è percorribile. E come se vince dalle nostre immagini, dietro vedete anche un albero di olivo caduto proprio a mezzo alla strada. Quindi la gente fa fatica anche a passare con la macchina. È un'arteria importante per loro, per questi cittadini che abitano qui, perché da qui si congiunge la strada che porta verso Drosi di Rizziconi e naturalmente verso Gioia Tauro. Strada piena di buche? Sì, sì, troppe, troppe buche. Oltre qui questo passaggio bloccato? Sì, 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 più sotto non si può circolare. Da quanto tempo è che è così? Da moltissimo tempo. Nessuno interviene? Nessuno, fino adesso nessuno è intervenuto, fino adesso. Da quanti anni è che è così? Questa strada qua è da sempre, ma da moltissimi anni è così. Ma un paio di anni fa è andato solo questo asparto, diciamo asparto, ma per modo di dire basta. Fino a un certo punto e poi basta. E' incontrata Marotta? Sì, sì, incontrata Marotta. Campagna Marotta, sì. Sì, tutti i giorni è passato, però... È un disastro? È quasi un disastro, veramente un disastro. Non è stata dissestata? È dissestata, qua siamo andati. È una porcheria, Simo. Siamo rovinati. Siamo abbandonati da Dio, dalle istituzioni e da tutti. Siamo abbandonati. Siamo come i cani. Nessuno interviene, nessuno fa niente. No, no, quale interviene? Non interviene. Tu vedi? Non si vede nessuno in giro. Non si vede nessuno. Non c'ho parole, guarda. C'avrei un libro da scrivere, però... Abba da qui e contro la Marotta? No, io abba da Drossi, però c'ho la campagna qua. E devo fare tutti i giorni in questa strada. Due, tre volte al giorno. Siamo messi male, guarda. Non lo so più a chi rivolgersi o boh. Non lo so. Cambiano alcune regole nelle urne in vista delle elezioni di domenica prossima. Vediamo. A molti sarà capitato di andare a votare ed inserire da solo la scheda nell'urna. Chi andrà a votare domenica prossima non dovrà assolutamente farlo, perché sarà un compito che dovrà svolgere il presidente di seggio. Questa è una modifica sostanziale alle prossime elezioni e da scaturirla non una considerazione a carattere formale, ma una nuova procedura. In base alla riforma della legge elettorale, infatti, entrerà in vigore il tagliando antifrode, che sarà posto ad ogni scheda, sia per la Camera che per il Senato, con codice progressivo alfanumerico generato in serie, che dovrà essere rimosso dal presidente di seggio, dopo che l'elettore avrà espresso il voto e prima dell'inserimento della scheda nell'urna. Il presidente quindi dovrà verificare che il codice alfanumerico riportato su ogni scheda restituita all'elettore coincida con quello notato sulla lista sezionale al momento della consiglia delle schede e solo successivamente dovrà strappare il codice e potrà inserire la scheda nell'urna. Non cambia, invece, il divieto di introdurre nella cabina i telefoni cellulari. Cambiamo nuovamente argomento. Sono stati presentati a Vibo Valencia i tanto attesi concerti del giovedì. Una nuova iniziativa culturale che intende coniugare la vocazione naturale di un istituto superiore come il Conservatorio di Musica con l'impegno civico che ciascun cittadino deve dedicare pensando al bene della propria città. La proposta che il Conservatorio di Musica Torrefranca ha inteso lanciare alla comunità vibonese è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa durante la quale è stato spiegato il senso del progetto civico musicale denominato Un'idea per la città. Si comincia giovedì 1 marzo e sarà un periodico appuntamento ai concerti del giovedì all'auditorium dello Spirito Santo appunto dedicato di volta in volta a quell'associazione di servizio che intenda presentare un progetto, Un'idea per la città, da sottoporre alle altre associazioni dei vibonesi al fine di programmare un'iniziativa pensata con l'obiettivo di far crescere culturalmente e socialmente Vibo Valencia alla quale dal canto suo il Conservatorio offrirà un concerto realizzato dai propri musicisti il cui valore è ormai internazionalmente riconosciuto. Dunque la musica è quale occasione di aggregazione e quale colonna sonora per proporre e discutere un progetto di crescita della città. Questi concerti naturalmente vogliono dare l'opportunità a tutti i cittadini che fanno parte delle associazioni e anche che non facciano parte dell'associazione a partecipare a questi eventi culturali, a queste manifestazioni musicali che sono veramente all'avanguardia e inoltre possiamo dire che la nostra città con questa iniziativa viene ad avere la stagione dei concerti perché prima al Conservatorio si facevano queste iniziative ma non venivano pubblicizzate in maniera corretta. I cittadini non ne erano a conoscenza. Oggi attraverso il lavoro collaborativo con le associazioni che si sono ampiamente spese e che collaboreranno per la riuscita di questa manifestazione ci sarà l'opportunità e la possibilità di conoscere i nostri giovani ragazzi che escono dal Conservatorio. L'occasione in cui il Conservatorio di Vivo Valencia si confronta con ben 12 associazioni della città con la collaborazione anche organizzativa di Amma Calabria presentando un progetto articolato per differenti generi musicali che permetterà al pubblico non soltanto di questa città di Vivo Valencia ma del suo vastissimo comprensorio di ascoltare da una parte alcuni fra i migliori talenti dell'istituzione e dall'altra concertisti di fama internazionale che hanno aderito al nostro progetto. E ora passiamo al calcio. Continua la straordinaria stagione del Rende che ora punta ai play-off. Ed ora parlare di obiettivo salvezza non è più neanche pensabile perché la canonica soglia dei 40 punti che significa simbolicamente salvezza è stata raggiunta anzi superata da Rende che grazie alla vittoria per 1-0 sul Catanzaro raggiunge quota 41 al quinto posto solitario in classifica. Anche il prudente Trocini quindi dovrà arrendersi e iniziare a parlare di altri obiettivi ovvero i play-off da conquistare possibilmente con la più alta posizione possibile. E c'è anche una seconda buona notizia ovvero che il Rende ha già osservato il turno di riposo mentre le squadre più vicine ovvero Siracusa e Matera no. Inizia quindi un nuovo cammino per il Rende a caccia della post-season. Non male per una squadra che secondo i più a inizio stagione aveva poche chance di salvarsi merito della determinazione di un gruppo chiamato ora ad alzare l'asticella. Continuando su questa strada la post-season è assicurata e lo sarebbe ancora di più se il Rende potesse giocare sempre dei derby. Cinque partite, quattro vittorie e un pareggio grazie alle due vittorie ottenute contro Regina e Catanzaro sia nel giorno di andata che in quello di ritorno e il pari casalingo contro il Cosenza. Dei derby ne resta uno solo, il ritorno contro il Cosenza, ma ora c'è da pensare al bisceglie ovvero il prossimo ostacolo da superare in proiezione play-off. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto più tardi per ulteriori aggiornamenti. Come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianus24.it Grazie e a più tardi.